Sto meglio, diciamo così, ho vissuto un periodo abbastanza brutto, ma oggi è il quattordicesimo giorno dal tampone, quindi posso dire che oggi veramente sto meglio, la febbre sta scendendo, quasi scomparsa, la tosse anche, quindi rimane un po' di debolezza e qualche dolore dovuto alla bronchite interstiziale, un dolore alla schiena. Ecosetta, come si sta organizzando le giornate? Ha preso un riposo totale oppure sta lavorando in qualche modo? Beh no, i primi giorni oltre al riposo totale viene proprio il disorientamento totale, quindi bisogna trovare un posto dove isolarsi, io mi sono chiuso ancora prima di avere la risposta del tampone in una capanna che abbiamo nel giardino, quindi i primi giorni sono stati veramente difficili perché qua era un disastro, piano piano ho messo a posto. Da un punto di vista psicologico, come si affronta una cosa del genere? Ci vuole molta forza, molta forza soprattutto perché bisogna stare da soli con se stessi per molte ore e paradossalmente quella cosa strana e brutta di questa malattia è che nel momento di maggiore fragilità, quando avresti proprio bisogno degli altri, ti trovi da solo, quindi devi far conto che devi essere forte, devi cercare di capire se la malattia si aggrava perché come i medici mi hanno detto e come stanno dicendo tutti bisogna ascoltarsi, capire se il polmone peggiora, misurare la quantità di ossigeno nel sangue con l'ossimetro, quindi insomma una serie di cose che poi contemporaneamente devi cercare di essere lucido anche per gli altri perché poi ovviamente il primo problema sono i familiari e le persone che puoi avere contagiato. Ma la connessione rimane, quindi ha saputo quello che è successo nelle ultime ore, si informa oppure preferisce lasciar te? No, per la verità fino a ieri mattina sono proprio stato isolato, non ho voluto saper niente anche perché avevo diverse cose da gestire anche personale, con la famiglia, con alcuni problemi insomma non solo miei, quindi ho cercato di stare concentrato, di stare tutto il tempo possibilmente al telefono, in videochiamata con mia figlia, con i miei familiari. Quindi la stretta attualità sicuramente la saprà, quella che anche il Presidente Ceriscioli avendo incontrato Bertolaso che ha dichiarato proprio questa mattina su Facebook essere positivo al Covid-19, ieri è venuto nelle Marche, quindi sia Ceriscioli che Mastro Vincenzo sono in isolamento, sono in quarantena, quindi queste cose immagino lei le sa. Sì, sì ho letto prima l'anser su questo e credo che al di là del fatto che fanno bene a mettersi in quarantena, ma la gran parte delle cose oggettivamente possono essere fatte senza il contatto fisico, specialmente le riunioni, noi abbiamo fatto diverse riunioni anche come consigliere regionale, tutte online, quindi credo che si possa fare anche evitando di incontrarsi, anche perché ormai il rischio di contagio è talmente alto che è inutile andare in cerca di ulteriori contagi e di propagandare questa infezione. Quindi chiunque ha il sospetto, quello che posso dire io è che chiunque ha il sospetto comunque pensa di non stare bene, deve isolarsi. Mentre mi sto accorgendo per converso che i medici di base, i medici di medicina generale, quelli del territorio, sono stati lasciati un po' da soli, sento molti medici di famiglia preoccupati perché non hanno regole chiare, ci sono ritardi, ci sono disservizi, tante persone sono a casa, non riescono a capire cosa devono fare, ovviamente questo aggrava il lavoro degli ospedali, perché poi si sta riversando un po' tutto sugli ospedali, cosa che invece andava gestita con dei protocolli ben funzionanti da casa. Invece tante persone sono molto preoccupate perché non riescono ad avere informazioni, cosa fare, pur rimanendo a casa e addirittura medici di medicina generale, medici di famiglia che non hanno ancora chiare le protocolli, le procedure, non gli hanno dato le protezioni. La gestione di questa crisi è divisa in due parti, quella degli ospedali che stanno facendo la trincea e con grandi difficoltà cercano di tenere il fronte, l'organizzazione sanitaria del territorio secondo me non sta funzionando come dovrebbe funzionare, quantomeno come l'organizzazione.